Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books io sono Tiffany e oggi andiamo a fare una scala, a dare un voto a tutte le serie young adult, fantasy e non solo popolari che io ho letto per praticità utilizzerò Tear Making che è un sito che chiaramente ha già caricato queste cose perché pensandoci fare una lista e dare un voto a tutte le serie che io ho letto probabilmente non basterebbero le 8 ore di diretta di un video di YouTube però noi ci proveremo e in questo caso andiamo a vedere tutte le serie popolari e a dare un voto secondo i miei gusti chiaramente, come sempre, annuncio già tutto questo video si riferisce ai miei di gusti se a voi le serie delle quali parlerò sono piaciute o non sono piaciute avete delle opinioni abbastanza diverse rispetto alle mie direi che non c'è nessun problema, faccio amici come prima detto ciò, mi raccomando, prima di iniziare il video ricordatevi intanto di lasciare un pollicino in alto di iscrivervi al canale e attivare la campanellina e giù nell'infobox invece trovate tutti i miei link di affiliazione ad Amazon dove trovate anche le serie delle quali parlerò in questo momento troverete tutti i miei link ai canali social se volete seguirmi anche fuori da YouTube direi che è arrivato il momento di iniziare allora, sto utilizzando ovviamente il computer quindi mi vedrete guardare in basso perché chiaramente devo seguire il computer però ogni tanto riemergo, giuro in questo caso noi ci troviamo su questo sito dove sono già state caricate moltissime serie che come vedete sono tutte queste qua non le ho lette tutte quindi quelle che ancora non ho letto chiaramente non le andremo a fare anzi c'è proprio la lista del haven't read it cioè non l'ho letta partiamo dall'alto sì, dai partiamo dalla prima serie che è Raven Boys di Maggie Steve Butter a me piace davvero molto quindi devo dire che probabilmente la metto nella parte great perché è un'ottima serie devo ancora leggere Raven King lo so, lo so però mi manca solo quello e comunque a me è piaciuta molto anche se come sempre io vi dico che a me la scrittura della Steve Butter non fa impazzire è un gusto personale so che invece è quello che piace proprio a tanti a me, non so, ho sempre qualche problemino con lei detto ciò però è una serie secondo me molto valida per ragazzi che mi sento di suggerire assolutamente e di parlarne assolutamente il secondo volume del quale si parla è Strange the Dreamer e io questa la vado a mettere nei good tier ovvero nella classifica ma sono indecisa in realtà se metterla good o great perché a me sono piaciuti entrambi la mettiamo qui per ora anche se anzi la mettiamo qui perché credo sia corretto lasciarla nei great perché Strange the Dreamer è stata la mia lettura preferita del 2017 ho avuto la possibilità di intervistare Laini Taylor quindi insomma è proprio tra good e great per me vabbè poi c'è la serie di 6 di corvi della quale non mi avete mai sentito parlare e penso che sia una serie molto carina che cazzo dico allora è la serie che finirà dov'è? fammi andare su in god tier cioè 6 di corvi su questo canale per rimanere su questo canale è un obbligo quindi se non avete letto 6 di corvi eh abbiamo Children of Blood and Bone allora Children of Blood and Bone in una prima battuta a me non era dispiaciuta però devo dire che non mi è mai ne è venuta voglia di leggerla e soprattutto ho cambiato parecchio idea sulla sua componente quindi io la metterei nei bad ok forse tra mettiamola ok perché ci sono cose peggiori eh però non abbiamo un buon voto ok anche perché poi dopo insomma ci teniamo la parte di eh shit tier che è molto allora io non direi mai che è un un shit cioè una merda direi che è pessima è proprio indecente come come cosa bad tier cioè male 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 e sappiamo che qua abbondano e ok mi sembra corretto dai è una serie comunque piacevole ha qualche elemento affascinante poi diciamo che è stata pompata un po' troppo abbiamo poi la serie di Renegades di Marissa Meyer che è la stessa autrice delle cronache lunari io Renegades non l'ho mai letta quindi facciamo passiamo in fretta a Heaven Read It la mettiamo in quella casellina lì abbiamo poi Three Dark Crowns e non mi ricordo nemmeno l'autrice ma non conta che in Italia è uscito come la battaglia delle tre corone se non erro che sembra tipo un fantasy giapponese una roba del genere vabbè facciamo finita di niente allora Three Dark Crowns per me è un'idea carina buttata completamente nel cesso quindi la mettiamo in pad diciamo che shit me lo tengo proprio per le cose male 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 ok qui abbiamo invece Illumine dei Lumine Files di J. Christophe e Emi Kaufman che è una serie che secondo me invece è molto piacevole quindi questa in rapidità la possiamo mettere in good tier cioè nella categoria che ha un buon voto anzi è proprio una serie molto piacevole io ne parlo troppo poco perché sono ferma a Gemina e quindi chiaramente mi sento assolutamente di consigliarvela il prossimo titolo il prossimo titolo invece è Simon vs the Homo Sapiens Agenda che in italiano è stato tradotto in una roba brutta una cosa che non aveva senso tipo io sono io non so cioè non so chi sono sono qui una roba del genere ma poi è stato ritradotto tuo Simon che è anche il titolo del film che è uscito della trasposizione cinematografica a me Simon è piaciuto quindi lo metto in ok ok tra good e ok in realtà sarebbe corretto forse più ok perché la scrittura di Becchia Albertalli non è che sia proprio sta roba magnifica però devo dire che a me non è dispiaciuto per nulla anzi è un buon romanzo LGBT per ragazzi che mi sento sempre di consigliare poi arriviamo alla serie di Jenny Han che si chiama To All The Boys I've Loved Before che in italiano dovrebbe essere tutte le volte che ho scritto ti amo se non sbaglio come la serie tv di Netflix allora io della serie tv della prima stagione ho un ottimo ricordo e del libro in realtà l'ho trovato un libro molto piacevole quindi anche qui andiamo sull'ok non così good perché non lo è però è stata una serie molto carina romantica di intrattenimento quindi per me è benissimo cioè quindi ve la consiglio è una cosa leggera che mi sento di consigliare ecco forse la differenza tra Children e Simon e To All The Boys I've Loved Before è che la differenza è che è un ok di natura diversa cioè Children è un ok più negativo le altre due sono un ok tendente al positivo ma tanto insomma perché sto facendo i miei soliti pipponi che non dovrei fare e poi qua veniamo a A Court of Thorns and Roses che sapete tutti essere la mia serie preferita va bene smetto di fare la simpatica perché poi se no vi arrabbiate perché non si può fare ironia su Youtube detto ciò A Court of Thorns and Roses in realtà questa serie ha sempre questa genesi qua a me i primi due erano piaciuti di intrattenimento molto leggeri avevo apprezzato del secondo molto il fatto che parlasse di una tematica a me cara cioè la sindrome post-raumatica legata anche alla questione delle relazioni il problema è che è tutto falso è tutto una presa in giro per nascondere ovviamente tutti i difetti giganteschi dei libri quindi io lo metto in bad tier non in shit tier perché dai non se lo merita non è corretto però male cioè questo è proprio male se è la vostra serie preferita mi raccomando non vi arrabbiate passo poi a The Diviners di Libba Bray che io devo leggere assolutamente quindi vado su un heaven trade perché non l'ho ancora letto ma tutti gli elementi che a me devono piacere cioè è una serie che ha a che fare con gli anni venti l'occultismo qualche mistero da risolvere quindi non capisco perché io non la sto leggendo però fate finta di niente poi abbiamo Shadow and Bone di Lipartugo e qua e qua mi voglio allora Shadow and Bone per me è una serie molto valida non è ai livelli di 6 di corvi quindi io la metto nel good tier però aspettatevi sicuramente una serie molto diversa da quella che è 6 di corvi è una serie sicuramente più semplice che ha molti più difetti però secondo me molto piacevole e anzi ha comunque un sistema magico molto interessante devo dire che comunque ha tanti pregi quindi io me la metto nel good e che arriviamo ad Anna and the French Kiss io di Anna and the French Kiss ne ho parlato solo una volta nella puntata del Feminist Friday sullo slut shaming perché Anna and the French Kiss Anna la nostra protagonista non fa altro che denigrare sminuire e affibiare nomignoli abbastanza cattivi alle sue rivali in amore quindi a me questa cosa non piace mai la trovo un po' brutta quindi la mettiamo in bad perché no non ci piace noi qua siamo per la sorrellanza siamo per il sostenersi a vicenda anche quando si tratta soprattutto di ragazzi che poi alla fine che cazzo ci frega cioè che poi alla fine il problema non sono le altre ragazze sempre vabbè ma comunque passiamo a Cinder di Marissa Mayer invece che è la serie che inizia le Lunar Chronicles a me le Lunar Chronicles sono una serie che è sempre piaciuta molto la trovo molto carina molto divertente molto di intrattenimento quindi per me Cinder va diretta in good perché è un'ottima serie molto divertente molto leggera quindi insomma io ne ho un ottimo ricordo ok evidentemente insomma questo video deve finire con le solite precisazioni da fare su Sarah J Maas perché ora c'è Throne of Glass ovvero il trono di ghiaccio che dire follettini e follettine il trono di ghiaccio è una serie terribile non so cosa potrei mai salvare di questa serie vabbè il primo è proprio il peggiore di tutti l'ultimo è terrificante quelli in mezzo non sono meglio anzi è proprio una non riesco a salvarlo lo metto in bad però è più bad di tutti gli altri cioè questo ufficialmente è il bad primo della classifica come bad non lo metto sotto perché non è corretto lo trovo sempre non troppo corretto a meno che proprio non mi faccia arrabbiare Throne of Glass mi ha fatto arrabbiare parecchio in realtà nel corso degli anni è una serie che io non consiglierei al mio peggior nemico a volte che ci siamo capiti insomma andiamo avanti prossima serie alla quale dare una posizione è The Darkest Mind di Alexandra Bracken io ho letto i primi due ho anche visto il film di recente cioè di recente un annetto fa io non ne ho un ricordo meraviglioso nel senso che è una distopia anche carina da un certo punto di vista come impostazione cioè si tratta sempre comunque di sto virus che arriva non si sa bene perché poi a un certo succedono le robe war building uno meno però non me la ricordo come una serie così spiacevole da leggere quindi alla fine io la vado a mettere in ok la mettiamo vicino a Children perché comunque sono un ok negativo però tant'è passo alla prossima serie che invece è Divergent di Veronica Roth io di Divergent ne ho un buon ricordo quindi è tantissimo che non la leggo e sicuramente rileggendola probabilmente troverai cose immonde delle quali parlarvi però alla fin fine non lo so io ne ho cioè ne ho un buon ricordo comunque a me Divergent come concept era piaciuto molto a me le distopie c'è questo soft spot quindi alla fine la vado a mettere in ok perché Good magari è esagerato cioè non è sicuramente una serie che consiglierei a scatola chiusa ora perché dovrei rileggerla però la mettiamo lì allora questo poi ovviamente era un classico io dico sempre che secondo me il mondo si divide tra Before Twilight e Dopo Twilight dal punto di vista del mercato perché Twilight ha chiaramente aperto il fantasy a una generazione di lettori poi fantasy diciamo fantasy romance a una generazione di lettori detto ciò io direi che Twilight lo metto in bed perché lo mettiamo anche al secondo posto perché effettivamente mi dà meno fastidio di Throne of Glass per certi versi perché Twilight effettivamente è uscito così tanto tempo fa che aveva senso che fosse scritto cioè aveva senso no non aveva senso cosa sto dicendo però vabbè ci stava eh Throne of Glass non ha nemmeno la giustifica del tempo quindi boh ma finalmente arriviamo veramente a una delle serie che merita tutto ovvero The Selection di di Tira Cass allora The Selection andiamo su dove sei e la mettiamo in grade cioè The Selection io come sempre non riesco ad avere un'opinione oggettiva perché è talmente trash cioè uomini e donne nella distopia come puoi aver pensato che fosse una buona idea invece l'hai fatto quindi basta per me The Selection vince tutto so che non è un parere oggettivo però ragazzi io ho stima della Tira Cass poi arriviamo a Ash Ash io ho letto solo il primo poi mi sono rifiutata quindi velocemente non ho una grande opinione di tutta la serie perché ho letto solo quello quindi magari migliora però deve migliorare proprio una maniera incredibile Ash Ash per me è un bad proprio senza passare neanche dal via allora poi c'è questa serie che si chiama Matched io non so nulla su questo libro ha un ranking bassissimo su Goodreads la metto in Haven't Read ma sicuramente non è una roba che voglio leggere poi abbiamo la serie Shiver di Maggie Steefather che io non ho letto quindi anche questa la mettiamo in Haven't Read non so se la leggerò cioè non ho mai sentito parere così esaltati riguardo a questa serie non so se la leggerò quindi boh chissà ma non ne ho tanta intenzione siamo sinceri passiamo ovviamente a Hunger Games di Susan Collins io sono una di quelle che è arrivata molto dopo a Hunger Games un po' anche perché ero fuori target probabilmente o forse molto in target non ho idea però ci sono arrivata milioni di anni dopo addirittura quando è uscito il film quindi per me è un ok tier io non sono una estrema fan della saga mi piace mi piace ma non ne sono così innamorata ecco andiamo su The Fault in Our Stars di John Green che io metto nel bad tier perché io ho un problema grosso con John Green non ci siamo non ci siamo in nulla è una storia tra l'altro molto pesante molto strappa lacrime so che molti ci sono affezionati io con John Green ho un grosso problema grosso proprio passiamo a Harry Potter e la pietra filosofale che questo è l'unico libro che posizioniamo chiaramente qua sopra anche davanti a 6 di corvi perché senza ovviamente Harry Potter non esisterebbe diciamo nulla di questa classifica che vedete è come ovvio che sia io ho grande fan grande grande fan di Harry Potter poi abbiamo questa copertina io non so cosa sia penso non so dirvi per quale motivo che sia The Perks of Bean Wallflower quindi se è quello la metto in ok a me è piaciuto molto come libro però non ne sono certa quindi potrebbe essere qualsiasi altra cosa se è qualsiasi altra cosa siete autorizzati a segnalarmelo vi prego ecco ok poi andiamo a Helen Oren Park di Rainbow Rowell che io metto in bad ok questa sta diventando una classifica abbastanza lunga penso che la sezione bad si sarà lunga ecco allora io ho un problema con la scrittura di Rainbow Rowell e con Helen Oren Park ne ho voti molti in particolare e aveva tutte le carte in realtà per piacermi perché comunque parla di un rapporto tra due ragazzi che vivono due situazioni familiari anche abbastanza complesse che hanno una serie di problemi personali e che sono appassionati di musica e questa cosa qua poteva essere molto molto bene ma è no è andata molto male molto male ok questa copertina che ci ho messo un attimo a capire cosa fosse è Cercando Alaska di John Green e anche questa la mettiamo vicino al suo compagno cioè nel bad perché no dopodiché abbiamo The Maze Runner io The Maze Runner devo dire che alla fine mi ha intrattenuta abbastanza e non mi è dispiaciuta granché che poi si perde la serie dopo fa un casino dopo l'altro ma Maze Runner come primo libro anche secondo secondo me per certi versi è una serie che non mi sento di bocciare il prossimo libro invece è The Book Thief cioè Ladra di Libri di Zusak che per me è un buon libro non è uno dei miei libri preferiti lo metto in ok però è un buon libro oggettivamente anzi lo mettiamo in good perché se lo merita io non sono particolarmente attaccata a questo libro però lo trovo un ottimo libro per ragazzi quindi ci sta lo mettiamo lì il prossimo invece è Percy Jackson e in questo caso è Lightning Thief cioè Ladra di Fulmini ecco io non sono una grandissima fan di Percy Jackson lo trovo un ok non me ne vogliano i fan cioè è tra ok e good ovviamente è positivo come cosa io però non sono rimasta scema per la serie di Red Cry Jordan che trovo comunque buona quindi ne parliamo in termini molto positivi non mi sento di metterla oltre perché ho letto i primi tre di Percy Jackson e non mi è mai venuta voglia di andare avanti nella serie quindi bene è un'ottima serie per ragazzi per me è ok però poi arriviamo a The H-Gift di Angie Thomas io sono una super fan di questo libro quindi lo metto proprio in rate la trovo una storia meravigliosa strappa lacrime è assolutamente da consigliare a chiunque già rido perché la prossima è Cassandra Clare con Clockwork Angel cioè la serie di Clockwork cose cioè il prequel in pratica e questo finisce direttamente in bed perché non vedo come potrei salvarla allora per certi versi alcune cose mi sono sembrate meglio che la serie diciamo di Jace e Clary cioè la serie principale dei Mortal Instruments ma tante cose anche peggio quindi non saprei come salvare di più questa serie quindi vabbè andiamo avanti passiamo alla serie di Laini Taylor di Daughter of Smoke and Bone io sono molto fan e molto innamorata di Karoo è proprio una delle mie protagoniste preferite quindi io Daughter of Smoke and Bone la metto lì perché se lo merita e quindi insomma sono molto contenta di avere un great perché effettivamente questo fondo della classifica è quello più popolato ottimo 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 passiamo a Vampire Academy che finisce in bed perché non lo so a me non è piaciuta so che molti sono fan io forse l'ho letto troppo troppo avanti con l'età e non no 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 per me i vampiri sono altri ci sono alcuni elementi carini nella serie non lo metto in dubbio però boh mi ricordo che l'Incipit cioè per iniziare a leggere il primo libro l'avrò riletto almeno dieci volte perché proprio non mi invogliava la lettura quindi boh vabbè andiamo avanti Delirium io non l'ho letto quindi vado a metterlo direttamente in Haven't Read abbiamo Red Queen che anche questo lo mettiamo chiaramente nel bad perché Red Queen è una serie che io ho provato ve lo giuro ho provato anche a continuare a cercare di leggere il più possibile perché mi rendo conto che insomma a un certo punto a me aveva lasciato un po' di curiosità non vi so dire perché ma me l'aveva lasciata e sono arrivata al terzo con grande sforzo perché il secondo è una cosa immonda ma il terzo è peggio del secondo perché almeno il secondo si capisce che non sapeva cosa scrivere il terzo è un appendice prolungata e anacquata del secondo quindi è persino peggio e quindi niente mi sono arresa niente è male Red Queen è male passiamo ad Aristotele e Dante Aristotele e Dante per me è un ottimo libro e io lo metto in good perché è veramente molto molto valido e quindi io mi sento sempre di consigliarlo un ottimo libro per ragazzi anche questa tematica LGBT che è perfetto in italiano esiste l'edizione è un po' bruttina però insomma intanto c'è poi abbiamo la quinta onda io la quinta onda non l'ho letta quindi vado veloce perché non mi ha mai ispirato è uscito in quel periodo dove ne uscivano molte stile Hunger Games stile Divergent eccetera eccetera io non ne ero particolarmente così ok poi abbiamo Everything Everything questo è l'unico libro penso a meno che non ne capitano altre per cui ho avuto lo stesso problema che io metterò nella categoria voglio dimenticarmi di averlo letto perché sulla salute mentale e sulla disabilità secondo me scrivere certe cose è problematico e Everything Everything a me ha fatto proprio arrabbiare perché il succo è che alla fine la malattia è tutta una finzione questo è un messaggio sbagliatissimo da dare sia ai ragazzi che in generale in un libro e questo proprio per me veramente finisce nell'immondo perché no no ok Before I Fall io non l'ho letto quindi va direttamente qua senza pensarci due volte dopodiché abbiamo Fallen ecco Fallen è l'altro libro male perché Fallen è veramente un libro male e quindi lo mettiamo lì senza problemi è brutto forte Fallen cioè sicuramente se vi sono piaciute alcune cose questo è un libro molto popolare se siete fan magari di tante cose in questa sezione Fallen è un libro che vi piacerà io non ve lo suggerisco poi abbiamo Shattermeade Tyra e Mafi allora Shattermeade anche questo lo fichiamo in bed non passandoci dal via perché Shatterme è una serie che so che è molto amata molto popolare per me male 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 e non so mentre della Mafi io ho apprezzato moltissimo il suo romanzo più diciamo contemporaneo ovvero A Very Large Expansive Sea che secondo me è un libro molto carino molto valido e che tratta una serie di tematiche sul contemporaneo e sull'esistenza delle etnie delle religioni diverse soprattutto da ragazzi ma Shattermeade no raga Shattermeade mi permetterò ok andiamo su Carry On invece di Rainbow Rowell che è probabilmente l'unico libro di Rainbow Rowell che io ho apprezzato quindi lo mettiamo in ok è molto carino zero impegno quindi io mi sento sempre di suggerirlo poi abbiamo I'll Give You The Sun che io non ho letto perché non mi ispira neanche un po' quindi andiamo veloce arriviamo a invece La Moglie Del Califo cioè The Rough And The Dawn di Renée Adie che a me è una serie che piace molto quindi la metto in good e non so io sono rimasta molto affascinata quindi non posso non metterla lì Wicked Lovely ve ne ho parlato di recente in questo caso io la metto non lo so cioè è male oggettivamente non è che è una serie buona però è di intrattenimento quindi è un male ok però cioè è quel ok lo sappiamo cosa stiamo leggendo passando poi per The Winner's Curse di Marie Rutkowski io questa è la serie che trovo great cioè è una serie proprio molto molto valida scrittura eccellente personaggi validissimi non so più come dirvelo che la dovete leggere esiste anche in italiano oh e poi abbiamo The Gentleman's Guide to Vice and Virtue di Mackenzie Lee che è male è male ma male male cioè male 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 anzi forse cioè no dai no la mettiamo sempre in bad non la andiamo a mettere nella categoria shit perché è male e io non la consiglierei il mio peggior nemico male 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 abbiamo The Young Alites di Mary Lou e io ho letto il primo e la metterei nel ok cioè una serie che è carina non sono mai andata avanti perché devo dire che non mi ha mai ispirato granché però dai una serie carina e mi sento di dire ok Gone che non so cosa sia quindi anche questa mettiamo in haven't read Falce cioè Sight anche questa è nella mia TBR ma non l'ho letta The Host di Stephanie Meyer The Host è un buon libro rispetto a Twilight ma non è tutto sto gran libro quindi io lo metto in è un ok per me cioè è un libro sicuramente migliore di Twilight non mi sento di metterlo tra i Good perché per me Good è qualcosa che ha un valore un po' più assoluto The Host è comunque un ottimo libro quindi The Host è comunque un buon libro rispetto a quello che aveva scritto prima l'autrice e quindi ma dai la mettiamo lì dopodiché abbiamo Beautiful Creatures di Amy Garcia non mi ricordo mai il nome e questa va anche questa in bed perché è veramente pessima come serie però è di intrattenimento quindi vedete voi cosa state cercando sembra che io lo stia facendo apposta però ora è arrivato anche 13 cioè 13 Reasons Why che va direttamente in bed perché 13 Reasons Why è problematica come poche cose al mondo non la metto ai livelli di Everything Everything perché è quello proprio oltre oltre la soglia di quello che è accettabile secondo me però male cioè male 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 poi abbiamo Every Day di David Levithan a me questo è un libro che è piaciuto quindi lo metto in ok forse è uno di quelli che mi è piaciuto di più suoi quindi mi sento di dire ok ed è arrivato Darker Shade of Magic io ho letto solo il primo e non mi è mai venuta voglia di continuare Andrea mi perdonerà ma io trovo Victoria Schwab una delle autrici più sopravvalutate che ci siano quindi la metto in ok cioè è una serie ok ma non lo so a meno che non migliori tantissimo la trama è molto interessante però devo dire che io ho un problema con la caratterizzazione dei personaggi di questa serie che è praticamente nulla e quindi non lo so no poi abbiamo Stalking Jack the Ripper che anche questo è in arrivo in Italia e questo cioè questo è terribile io l'ho letto ed è male 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 ma male 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 cioè poi forse migliora un pochino in quelli successivi ma il primo è male 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 comunque vedete cioè quanto se ne quanti pochi se ne salvano vabbè oh abbiamo The Foxhole Court allora The Foxhole Court io non posso metterla in qualsiasi altra categoria che non sia bad nel senso che non può andare sopra perché è scritta male però Foxhole Court ha il pregio di avere una caratterizzazione soprattutto del protagonista eccellente che diciamo è superiore praticamente ai tre quarti dei libri in questa classifica tutto il resto però è talmente male che non mi sento di metterla in nessun'altra categoria chiaramente poi abbiamo Five Feet Apart che io non ho letto quindi anche questo All the Bright Places anche questo non l'ho letto Warcross di Mary Lou anche questo non l'ho letto The Astonishing Colors non mi ricordo che è non l'ho letto poi abbiamo The Unbecoming of Mara Dyer che ho letto effettivamente e questo lo metto in ok è una serie ok non va presa troppo alla lettera e per me è stato comunque piacevole ve l'avevo messo in uno dei video vecchi dove vi faccio vedere i libri della vergogna probabilmente quelli che ho da più tempo ancora non ho letto quindi insomma quello è abbiamo Fangirl di Rainbow Rowell e in questo caso io la metto in bed cioè in bed perché non si merita di stare in nessun'altra parte come Rainbow Rowell ok adesso invece abbiamo Eragon di Christopher Paolini e questo è un problema nel senso che Christopher Paolini non so se vada preso in una maniera un po' più oggettiva o per il legame che molti di noi possono aver stabilito con questo libro perché Eragon è oggettivamente un libro scritto coi piedi scritto malissimo e poi più vai avanti più si perde è veramente cioè poverino non è neanche colpa sua che alla fine Paolini quando l'ha scritto era veramente molto giovane però è vero anche che l'impatto collettivo che ha avuto Eragon e anche insomma i gusti che ho cioè non lo so sarebbe bad perché va messo in bad a livello oggettivo ma noi lo mettiamo in ok perché comunque è una serie che io apprezzatemi ci sono anche legata quindi va bene così sarei anche poi curiosa di rileggerla ora penso che cioè strapperei le pagine probabilmente quindi non lo faremo ok non lo faremo chiudiamo in bellezza invece questo video perché l'ultimo titolo è Cruel Prince cioè il principe crudele di Holly Black che finisce in bad perché è una serie che non possiamo salvare cioè ricordo che ci sono le fattine che parlano di patatine fritte parcheggi e poi male 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 alcune cose detto ciò insomma direi che siamo arrivati in fondo a questa classifica adesso proviamo a fare il download e questa è la mia classifica finale come vedete diciamo che ci sono categorie molto abbondanti soprattutto bad c'è la categoria ok che anche questa è abbastanza popolata cioè dove non ho un'opinione particolarmente positiva né particolarmente negativa però diciamo ok si leggono è anche molto popolosa la categoria dove dei non letti perché chiaramente non posso aver letto tutte le serie presenti però diciamo che nei good e nei great ci sono serie che insomma io vi suggerisco molto spesso god tier ovviamente c'è la parte alta la parte irraggiungibile per ora rimane popolata solo da harry potter e da 6 di corvi chiaramente allora siamo arrivati alla fine del video di oggi insomma questo è stato veramente un video molto leggero una boiata veramente fotonica però spero che vi sia comunque risultato piacevole e che vi abbia divertito quantomeno fatemi sapere di quelli che ho messo in questa classifica se ce n'è qualcuno che voi avreste salvato assolutamente o messo in tutt'altra categoria oppure quali sono magari i vostri top 3 un libro diciamo good great cioè un libro che vi piace moltissimo tra questi un libro che magari trovate ok cioè niente di male niente di così ottimo però insomma vi sentite di salvarlo e di metterlo in classifica e invece uno proprio male 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 insomma sono curiosa di sapere le vostre risposte detto ciò siamo arrivati alla fine del video di oggi io vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me spero di avervi tenuto compagnia e direi che per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao ciao